Papi, ci serve qualcosa per proteggere la nostra famiglia. La penso come te, Marjorie. Tu meriti la pace dei sensi. E la pace è proprio quello che avrai. Vorrei comprare la pistola più letale che avete. Scaffale, sei accanto ai biglietti di condoglianze. Fermo, stia attento, Buffalo Bill. E perché devo stare attento? Sono armato. Bene, immagino che voglia il kit di accessori. Fondina, bandoliera, silenziatore. Rumorizzatore, accelera cane. Già mi piace il nome. E questo è per abbattere gli elicotteri della polizia. Non mi serve una cosa del genere. Ancora? Mi dia solo la pistola. La centena legge richiede un periodo di attesa di cinque giorni. Dobbiamo fare un controllo dei suoi precedenti. Cinque giorni? Ma io sono arrabbiato adesso. Ti ammazzerei se avessi la mia pistola. Sì? Beh, non ce l'hai. Un otto pallone gonfiato. Pensa di essere importante perché ha un sacco di pistole. Ma se non avesse tutta quella pistola, gliela farei vedere io. Una cosetta o due. Metti che lui entrasse nel mio negozio. Allora sì che lo farei aspettare cinque giorni quella faccia da schio. Papà, sono le tre del mattino. Non potresti sborbottare in camera tua? Mamma mi ha cacciato via. Va bene. Continuo pure, uffa. Questi ragazzi arroganti adesso mi dicono pure che cosa devo fare a casa mia. Ma tu guarda, il fatto è che i genitori oggigiorno non sanno educare i figli.